Un antico mistero legato ai campi flagrei sta per essere svelato. Il professore che doveva fare una dichiarazione alla stampa è sparito misteriosamente. Sapendo di essere in pericolo, ha lasciato un percorso nascosto per scoprire la verità in un viaggio nelle isole vicine. Un fatto inaspettato scuoterà le vicende dalle sue fondamenta. Scoprirete cosa sta realmente accadendo o la verità non verrà mai a galla. Il tempo per la vostra indagine passerà inesorabilmente e solo qualcuno tra di voi riuscirà a fare luce sull'accaduto. Una vacanza che vi permetterà di divertirvi e di godervi appieno la barca. Ricostruite tutti i tassieri della vicenda e risolvete il mistero.